Sette giorni ricchi di incontri con al centro La Natura le escursioni e soprattutto la possibilità di sviluppare nuove amicizie con ragazzi della stessa età che parlano lingue diverse. Questa è in sintesi l'essenza dell'Euregio Summer Camp 2013 che si è svolto a Novacella vicino a Bressanone l'ultima settimana di luglio al quale hanno partecipato una cinquantina di ragazzi e ragazze fra gli 11 e i 14 anni provenienti da Trentino, Alto Adige e Tirolo, i territori che compongono l'Euregio. È stata una settimana di studio e di svago, molto apprezzata dai ragazzi, tutti decisamente felici di aver partecipato a questo particolare campo estivo e consapevoli dell'opportunità di studiare un'altra lingua, come ci hanno raccontato in queste interviste. Sono venuta qua per imparare il tedesco, almeno migliorare la pronuncia, quindi imparare cose nuove. Mi trovo bene, ho trovato tante amiche. È bello conoscere altre culture, altre lingue, altri modi di fare, quindi sì, imparare a vivere come gli altri un po'. Fino adesso sono convinta della mia scelta perché mi sto divertendo e anche sull'apprendimento della lingua tedesca sto facendo progressi. In questi ultimi tre anni ho fatto la scuola di bilingue in Trentino e tedesco. Infatti mi è molto servito perché a me piace il tedesco e credo che sia una cosa bella unire l'Austria e l'Italia. Gli austriaci sono molto simpatici in questo campo e spero di poter imparare un po' meglio il tedesco anche per riuscire a parlare meglio con loro, per poter comunicare. Oltre alle varie attività ludiche, i ragazzi hanno avuto la possibilità di apprendere le caratteristiche comuni, le particolarità culturali e le differenze presenti nei vari territori dell'Euregio, confrontandosi e cercando di parlare in italiano e in tedesco, ovvero nella lingua degli amici appena conosciuti. Un'esperienza non facile all'inizio ma nella quale i ragazzi si sono cimentati con grande entusiasmo e voglia di apprendere, come ci racconta Giovanna Patton, una delle animatrici dell'Euregio Summer Camp. Qui al campo i ragazzi hanno la possibilità di vivere uno scambio linguistico e culturale totale. Loro stanno tutto il giorno assieme, dalla mattina alla sera e anche la notte. Con noi fanno delle attività, la mattina organizziamo delle lezioni in tedesco e in italiano. Noi cerchiamo di renderle il meno noiose possibile attraverso giochi o attività pratiche. Il pomeriggio invece facciamo dei giochi in parte organizzati da noi e in parte liberi. All'inizio abbiamo visto che i ragazzi di lingua tedesca avevano un po' di quasi paura, un po' timidi a parlare in italiano e i ragazzi italiani erano timidi nel parlare il tedesco. Poi nelle varie attività stimolati nel modo giusto abbiamo visto che sono molto bravi con le lingue e sono molto preparati. Nel corso della settimana per facilitare la conoscenza e l'affiatamento all'interno del gruppo sono state organizzate escursioni, serate gastronomiche a tema, proiezioni di film nelle diverse lingue e giochi. Fra i momenti più interessanti è anche l'arrivo a Nuova Cella del presidente dell'Euregio, Luis Durnvalder, che ha sottolineato l'importanza di incontri come l'Euregio Summer Camp, che rappresenta un esempio pratico della collaborazione fra diversi territori, ovvero come passare dalle parole ai fatti. Noi politici diciamo continuamente che dovremmo collaborare all'interno di questo Euregio. Se lo fanno solo i politici allora sì ha un valore, però quando lo fanno i giovani allora ha un altro valore, perché il futuro è dei giovani. Se i giovani imparano già a collaborare con gli altri, a discutere, a dialogare, eccetera, allora vuol dire che loro incominciano a capire che la conoscenza delle lingue, la conoscenza delle altre persone ha un grandissimo valore per tutta la loro vita. E perciò è importante che loro prima di tutto capiscono che loro sono il centro del mondo, che loro non sono gli unici del mondo, ma che hanno bisogno di amici, di colleghi, eccetera, e quando giocano insieme, cantano insieme, allora capiscono che il mondo è bello, quando la gente collabora, si capisce e sta insieme. E perciò è molto importante che questo lo possano imparare già da giovani.